Vorrei, vorrei. Allora, papà, Luca Pagano. Let's welcome with 2.19.000 chips to start from Italy, Luca Pagano. Ogni professionista, ogni giocatore di poker dovrebbe una volta nella vita andare a giocare a Las Vegas. Tra i pochi professionisti, il professionista per antonomasia ce l'abbiamo noi qui, ed è lui, Luca Pagano. Luca, ma cosa vuol dire essere un professionista del poker? Finalmente la picca, ci tenevo veramente tanto, ci tenevo veramente ad alzare questo trofeo. L'Italian Poker Tour è uno dei circuiti più prestigiosi in Europa, probabilmente anche al mondo. Siamo con Luca Pagano, CEO di Clash. Mi ha onorato con un outfit più che professional, che mi ricorda i momenti aulici del poker di PokerStars. Sono davvero felice di averti in questo uniforme. Io in realtà stavo per andare a dormire. Però mi hai fatto questo grande favore. No, io vado a dormire così di solito. Scomodino, il pigiama è sicuramente un'opzione più buona. Allora, Luca... Fortnite. No, no. Fa schifo a questi ragazzi. Fa schifo, Fortnite fa schifo. Bravo, bravo. Allora, Luca, papà dell'azienda Clash. Gioca a LOL nel tempo libero. In realtà gioco a LOL per fare impressioni su Isabel. Per amore, gioco a LOL per amore. Allora, allora, allora. Grande Luca, mi ricordo quando giocavi Pugno e tanti colicini. Ovviamente avrai dei fan del... Un vecchio zoccolo, anche io ti ho conosciuto. Nell'estati del 2008, forse, ti guardavo accaldato e dicevo wow. Wow, wow. Questo, eh. Questo è il poker. Ma adesso siamo in un nuovo mondo, il mondo dell'Islam, nel mondo community di vari titoli, di vari giochi e ci avviciniamo anche a questi ragazzi che ci seguono e li facciamo vedere, gli dimostriamo cos'è un vero gameplay, come si diceva. Il mindset. Il mindset. Giocare safe. ADC. Cario la partita. Poiché. Vediamo queste rune formulate da te, eh. Assolutamente no. Mi piace, Luca. Mi stai pompando, Luca. Sembra che dobbiamo andare a picchiarci. Allora, quindi Jinx, che squadra... Noi non siamo né aggressivi, né omofobi, né razzisti, né auguriamo la morte. Ah, c'ha visto un po'. No, 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 auguriamo la morte naturale. Ah, è di vecchiaia. Eh sì, certo, la morte naturale. Bene, bene, bene. Il boss mi piace, bene. È simpatico, Luca. Vedrò di farvelo apprezzare, ma non sarà difficile. Cuffie che non ci pagano, quindi le mettiamo, ma... Financiato punto. Bravo. Una sì, una no. All in. Io... Vado? Io mi sento bene, ma male. Non so come dire. Ti senti male per me? Io mi sento... Allora, controllare. Allora, premetto. Grandi problemi con Jinx in early games. Allora, lavoriamo su questo. Allora, se riesco a non morire per i primi 45 minuti... Beh, perché tu dici che la partita dura un'ora e media a ferro due. Forse anche di due volte. Cioè, a volte si vince per stanchezza. Allora. Dove sono i gatti? Dove sono i gatti? Ti invito a calmarti, perché in quanto imprenditori potrebbero anche pensare che hai pippato. Non hai pippato, ma sembra. Non me lo posso permettere. E allora, tranquillizziamoci un secondino. Facciamo un giro largo di questa montagnella. Mì, che palle. Però devo fare in vede, ci hanno già invaso, ci hanno preso il blu. Quindi. Il blu. Mi piace questa contraposizione, fratella Isabella. Tu invece vuoi sbattere le palle in testa di avversario con una vehemezza veramente micidiana. Di solito perdo 0-12 con qualche support. Ma infatti, rallentiamo un po' questo gameplay. La W cerchiamo di tenerla. Se la utilizziamo, la utilizziamo su lo stand di Brand o sulle due trappogline. Bene. Si può insultare l'avversario? Sì. Cioè, è ammesso. No, anche perché, voglio dire, di quegli insulti su LOL che sono... Occhio al carretto, cerco di prenderlo. Bravo. Pulito! Eh? Si può essere. L'occhio buco, si è tutto detto. La teniamo per dopo? Evitiamo. Magari, ma muore. Out, push. Out. Out attacca a Draven. Out attacca a Flash. Faccio pure l'altzo. Contro con la Ia. Double kill, double kill. Non ce la fai, non ce la fai. Push la wave, regolla. Anzi, vai via, vai via, vai via. Perché arrivava qualcuno da. One week, vai via. Scappa, scappa veloce. La W ce l'ha. Teniamo. Non so spendere, a me piace un sacco spendere. Occhio qui, anche Wariel Mana. Pozze. Wardah. A me piace la W, c'ho il tic, c'ho il tic. Wardah qua dentro. Quando mi dicono report jinx for KS, cosa vuol dire? Eh, report jinx for uccisione rubata. Vabbè, ma è uno smettere. La E non si usa. Attento al grab, ti puoi dare a grabare tre volte là, Lucas. Ma è un cesso, non lo mettiamo in dubbio, ma comunque dobbiamo giocare come... Vabbè. Se fossero umani, normali. Mi grabava. Devi sempre levare W e scappa. Tutto apposto, tutto apposto. Ho tutto sotto controllo. Tranquillo, tranquillo. Allora. La W non è male, actually. Quello potrà morire. Con la ulti ancora non ci muore. Quello puoi picchiare. Continua a picchiare. Picchia, 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 picchia. Picchia. Picchia lui. Picchia Draven. W. Q. È pronto con la ulti? Ulta, ulta, ulta. Muore. Pusciano la wave. Luca, sta andando de cristo zi. Il movimento che ho fatto era perfetto. Questa è una merda. Preso. Flash. Subito. Di giorno e di notte. È colpa sua. No. Supporto in merda. No, no, no. No, no, Luca, Luca, Luca. È sempre colpa del supporto. No, Luca. No, Luca. No, Luca. Allora. Torniamo in botte. È bastato un errore. Ti credo con questo super di merda con cui... Niente. Va bene. Guarda la mia mappa. Guarda dove è lui. Bravo. W. IAL pronta. IAL pronta. Se serve. Q. Giusto. Puliamo. Guarda. Mori, merda. Si può dire. Eh, auto. Auto, normali, normali. Va bene. Un attimo, panico, 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 panico. È anche la IAL, eh? L'altro, l'altro. IAL, IAL. Ah, ma... Le hai curato, ma per sbaglio. Madonna. Ho curato l'avversario? No, hai curato lui. È certo. Pusha la bot. Fatta apposta. Q. Ma posso... Gli scambi, gli scambi. Sì, sì. W su quello lo puoi fare. W, W. Markkaboyam. Ma com'è possibile che le prendi tutte? Ma le prendi per sbaglio. Sono fortissimo, baby. Ulta. Scusa, che... Fattolo. Pozza. Sì. Te lo metto su il team di pro player. Esk. Vado. Vado. Dove andiamo adesso? Voglio ad ammazzare qualcuno. Posso uccidere qualcuno? Altrimenti facevo il support. Porcazza. Ecco. Aspetta, quello muore. Ok. Well, quell'altro... Non l'ultare già. È full HP. Però l'aiuto. Sì, dai. Gli prendo la kill. Guarda. Report... Vaffanculo. Report Jinx for Kales. Ci sta. Adesso arrivo. Sì, sì. Ce l'ho appunto. Non lo prendo. Bam! Scusami, eh. Le wave, le wave. Devi essere un toro. Certo, certo. Pronto. Mi spetta malfight. E picchia lontano. Picchia, picchia, picchia. Bam! Picchia, picchia, picchia. Attento, attento. Scappa. Ha fatto un'ottima ultima. Quello muore di dopo. Bam! Picchia. Occhio a malfight sempre. Continua a picchiare, Stella. Puoi anche flashere in. Bam! Continua, continuo, continuo. W. Sì, sì. Qua, qua. Bam! Ma come cazzo è possibile? Vai via. Muori da ultima. Ma che, ma figuri. Sì. Non c'è la mia. Ma che, vabbè. Eh, beh, è bene. Mi piace un sacco Fortnite. Ai, ai, ai. Ah, vabbè. C'è il rischio che vinci il game qua Pusha forte Oddio Guarda quell'altro pazzo Pusha bene Carretto Carretto Vinci della partita Carretto Non c'è più il carretto E sono comato il carretto Vai vai Sali Sempre sali Quello muore W Dai da levare W Picchia La torre la torre stella Vai Bang Dai 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 Però aspetta la mia wave Cura ti cura ti cura Auto 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 attack e minion Con bravo Sali Fammi il movimento Verso Verso La torre però Ok Giriamo Bravo Perché giri Perché ti faccio fare questo movimento Perché il più Safe possibile Bravo E poi Bam Fight Auto Picchia picchia Sali 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 Siamo a salire Pronto con lo zone Ti serve La ultima ammazza Sali Da su Da su Su Hai preso un altro assi W Occhio Occhio Pronto con lo zone In caso Se vedi qualcosa Ma il fight è lì Occhio alla ultima Il fight in caso Non ce la va nemmeno La cola adesso Con l'espo Andagli la base Pensa Tu che cosa faresti Sono tre morti Drago Barone 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 No Mid Mid Volevo proprio dire Mid Però il team Tu vai mid Tu vai mid Sali Non ci sei Sparuto Sali Sali Io non l'ho mai Provare Poi non l'ho mai Sali No No Sali 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 però non ho visto nulla Fai... No! Pw è morto Super Guarda Warwick Lupo, lupo, lupo Lupo Lucio La minimappa Ah, la cazzarolla Non l'ho vista Mi lancio una ulti Si, no, glielo rupo, glielo rupo Bam! Niente, eh Volevo fare... Occhio a Malphite Scappa Rapport Scappa La eno da sprecare Quello vuole morire W Scappa, sali su Se Malphite ti prende Tu perdi il teamfight No, no, troppo Bravo Giusto Occhio al grab Mamma mia Dremen, lo shoti Auto Auto normale Ulti Trappone su Occhio all'ultima fight Occhio all'ultima fight Tutto a posto Tutto a posto Tutto a posto, bro Ti spiego Ti spiego Ma il 2 è ci reportano La Riot Report Jinx portata 2 Anche Hanno rotto il cazzo Rapportano per qualsiasi cosa Questa community un po' toxic Si può dire che è una community un po' toxic Ma no, aspetta perché stai confondendo League of Legends e Twitch Twitch ci banno per le cose un po' black humor Poco politico di correct Mentre Riot è un po' per l'intentional feeding Quindi tra una cosa e l'altra si può dire un cazzo Un po' si Quindi mi raccomando Non mi fate fare figure di merda Con Con il buon Luca Ex pro player di poker Caster su Pocermania Ah Hank scusami Hank Arrivo Dove? Canale? Ah oh mi ha tolto Si dai adesso arrivo un attimo Ok vai Ehm Devi andare Ehm Vado Ciao Ragazzi ci vediamo sul canale di Lapo A prestissimo ciao Grazie a tutti Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like se vi va E condividetelo con i vostri amici Su Whatsapp O anche su Telegram O Facebook Se siete un po' Boomer Ciao 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 Ciao